Allora, amici e carissimi, appassionati della Sacra Scrittura, la cosa, il tesoro più prezioso evidentemente che abbiamo, questo grandissimo patrimonio, questo mare ultra immenso, colmo di misteri, perché dentro la Sacra Scrittura c'è veramente un mare infinito. E sono molte più le cose che non conosciamo o che non comprendiamo di questo grande patrimonio rispetto a quelle che invece conosciamo e comprendiamo. Quindi stiamo in un mare davvero grande e sterminato. Speriamo anzitutto che vada bene per chi sta seguendo la diretta, anche perché nella diretta c'è anche la registrazione di quello che andrà poi indifferita. Speriamo che non ci siano problemi tecnici, infiliamo questa puntata all'intercessione di San Michele Arcangelo, dato che stiamo alla vigilia della festa anzitutto di San Michele, adesso anche degli altri due Arcangeli, ma tradizionalmente il 29 settembre è la festa del principe degli angeli del cielo, a cui gli chiediamo di proteggere dalle incursioni negative la nostra speriamo fruttuosa conversazione e anche di addentrarci, questa sera con i giudici cominciamo i cosiddetti libri storici. Un grande mare magno, perché si va dai giudici passando per il primo Samuele, il secondo Samuele, il primo re, il secondo re, il primo cronache, il secondo cronache e poi i libri dei Maccabè. Un arco di storia di circa 700-800 anni, dopo appunto, partendo dai giudici, che sono il tempo immediatamente successivo a Giosuè, si arriva attraverso il raccordo di Samuele al primo re ebraico, che è Saul. Un guaio, dopo Saul tutti quanti ricorderemo, c'è Davide, poi c'è Salomone, poi c'è la tragedia, progressivamente dopo, anche a causa della brutta fine, cioè del brutto termine della vita terrena fatta da Salomone, come vedremo a sto tempo, la divisione del regno, la distruzione poi da parte degli assiri del regno del nord, quindi del regno di Samaria, e poi le varie vicissitudini, dopo gli assiri i babilonesi, dopo i babilonesi i persiani, dopo i persiani Alessandro Magno e gli ellenisti, dopo Alessandro Magno e gli ellenisti i umani, e così arriviamo al nostro Signore Gesù Cristo. Dentro questo tempo, diciamo così, che è tagliato trasversalmente da libri storici, che terminano appunto con il ciclo dei Maccabiei, quindi arrivano praticamente alle porte dell'invasione romana e quindi poi dell'avvento di nostro Signore, poi operano tutti quanti i profeti, a partire diciamo così dall'antenato dei profeti, dal primo che è Elia, e poi grandi profeti, maggiori e minori, Elia non è annoverato ufficialmente tra i profeti, perché i profeti cominciano ufficialmente con il profeta Esaia, ma Elia è un po' come Samuele, è una figura carismatica, proprio del tutto eccezionale, e tra l'altro ha un'importanza straordinaria, perché sappiamo bene che Elia è stato associato da Gesù stesso a San Giovanni Battista, quindi è una figura straordinaria. Quindi entreremo in questo mondo. E' un mondo meraviglioso, perché al di là, cioè è chiaro che ci vuole sempre una lettura, come dire, introdotta nei nostri incontri, non è possibile andare a leggere e cantare la Bibbia evidentemente, vogliono però fungere da, come dire, da tentativo di aiutare una lettura. Vedremo in particolare il fine, per esempio, fondamentale per cui sono scritti libri storici, perché non è semplicemente una cronistoria, ma è storia sacra, quindi è una presentazione dei fatti storici accaduti al popolo di Israele, ma letti alla luce della Divina Savienza. Quindi una chiave di comprensione degli eventi accaduti al popolo di Israele, compresi quelli tragici, quelle disfatte militari o cose di questo genere. I storici sono pieni di battaglie, di guerre o cose di questo genere. Allora una persona un pochino sproveduta, a lui dice, ma che è sta roba, quella prova di Dio, tutte queste guerre, tutti questi nomi, tutte queste cose. Allora, capiamo sempre che, purtroppo amici, ma purtroppo, quando noi ci approcciamo al Signore dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare perché noi approcciamo, non c'è neanche una silba, neanche un radicale ebraico, diciamo così, nella Bibbia che non abbia la sua profonda ragione d'essere. La Bibbia è un'altra testimonianza del fatto che noi di Dio sappiamo pochissimo. Perché ci sono tantissimi passi biblici che sono e restano scuri, ci si sono scimentati fior di geni, fior di intelligenze. Qualcosa abbiamo capito, più o meno, qualche altro passo, pochissimi, quelli, diciamo così, utili a fini magisteriali, sono stati oggetto di magistero autentico della Chiesa, ma la grande maggioranza rimangono un mistero. E come mai che Dio fa così? Non lo sappiamo. Come mai Dio magari allo stato attuale, almeno ad oggi, ci sono dei passi biblici che non ci ha mai raccapezzato niente, quasi nessuno. Almeno a quanto se ne sa, perché poi sapete, nei segreti delle certose che è successo con quegli uomini e anche donne da un certo punto in poi che stavano dalla mattina alla sera in meditazione, i grandi padri dell'eserto, San Simone e l'Ostilita, tanto per dirne una. Può darsi che loro abbiano capito tante cose e non ce le hanno mai lasciate scritte. Quindi stiamo sempre, cioè quando stiamo in contatto con Dio dobbiamo fare sempre un passo indietro, un passo di profonda riverenza e più che mai con l'Altissimo, prima di aprire la bocca, oltre a collegare il cervello, bisogna collegare anche la fede divina e cattolica e quindi il senso della sua immensissima grandezza e della nostra straordinaria e umile miseria. Così forse qualcosa funziona, fuori di questi parametri, amici miei. Proprio di Dio, proprio non capirà proprio, già si capisce poco, ma fuori di questi parametri stiamo proprio allo zero assoluto. Quindi mi raccomando. Allora, andiamo a fare una presentazione diciamo così globale, perché poi questi capitoletti evidenziati nelle parentesi gli daremo un'occhiata. Allora, anzi, andremo a leggere con attenzione le considerazioni generali sul periodo dei giudici, perché sono un pochettino, ecco, l'overture, il là, la chiave di lettura di tutto e il testo, ma anche poi dei libri storici seguenti, a cominciare dal primo Samuele. Samuele. Cioè, i primi tre giudici, personaggi relativamente minori, Otniel, Eud e Samgar, poi un grande giudice donna, artefice di una vittoria militare, attraverso il generale Barak contro Sisara, vedremo qualcosa, il grande Gedeone, e lì vedremo cosa fa Nostro Signore per dimostrare che le vittorie sono le sue e non le nostre, e poi il grande Sanzone. Anche questo, purtroppo, precursore sotto certi aspetti di Salomone, perché Sanzone è stato, ahimè, rovinato ed è caduto dopo le sue grandi glorie a causa delle donne. Tutti quanti conoscono più o meno la storia di Sanzone e Dalila. Dalila, peraltro, è diventato un nome molto caro proprio per questo motivo perché è stata la rovinna di Sanzone a, come dire, a agli amici dei concorrenti, chiamiamoli così con eufemismo. Allora, questo come brevissima introduzione, andiamo a vedere subito, cambiamo slide, o meglio cambiamo condivisione, andiamo esatto sulla Sacra Scrittura, qui c'è sempre, non proprio la Esa perché ci manca la Esa dove ci dovrei mettere un altro testo perché qui abbiamo le versioni tra l'altro testo che ce lo devo mettere perché qui, anzi no, la 70 c'è, qui abbiamo l'ebraico, le versioni della 6, la 70 e la vulgata, andiamo a vedere appunto questo passaggio, 16, non soltanto 19, andremo anche un pochino oltre perché è alquanto interessante, comincio la lettura, teniamoci alla versione 6, 2008 come testo di base. Allora, allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalla mano di quelli che li depredavano. Allora, una piccola notazione, chi sono questi giudici? I giudici sono dei reggenti, diciamo così, che hanno il compito in qualche modo di fare le veci del Signore perché quello che è la volontà di Dio per il popolo di Israele, poi si capirà molto bene, era che chi è che li governa? Lui stesso. Dato le leggi, ha dato l'alleanza, ha detto tutto che lo devono fare, non c'è bisogno di un re umano. Li governa lui. Per qualche questione o per qualche situazione particolare ci pensa lui a suscitare persone adatte a certi scopi dopodiché finita la loro missione se ne vanno in pace e continua il Signore stesso a reggere e governare il suo popolo. Questo è stato il periodo dei giudici. Allora, che cosa facevano quando sorgevano? Li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano, ma neppure loro giudici davano ascolto, anzi, si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Qui comincia la tarantella. Attenzione, abbiamo lasciato la volta scorsa, ricordate la volta scorsa la fine del libro del profeta Giosuè e l'assemblea di Sichem, Giosuè arriva davanti alla terra promessa e dice wey, adesso mettiamoci d'accordo, che volete fare? Volete stare dalla parte del Signore o volete servire gli dei pagani? Lungi da noi l'abbandonare il Signore per seguire altri dei. Giosuè dice attenti, guardate che ne siete testimoni contro voi stessi, eh? Perché se servite del Signore avrete benedizioni, ma se lo negherete, lo tradirete, saranno guai. D'accordo? Siamo testimoni contro noi stessi, l'abbiamo sentito la volta scorsa, no? quindi, ci siamo lasciati così e che cosa comincia a fare Israele appena comincia nella terra promessa, appena arriva nella terra promessa, scusate, esattamente il contrario di quello che aveva promessa. Si prostituivano ad altri dei e si prostituivano davanti a loro. purtroppo, abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore e si non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice perché il Signore si muoveva con passione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva tornavano a corrompersi più del loro padre seguendo altri dei per servirli e prostarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Ok? Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse poiché questa nazione ha violato l'alleanza che avevo stabilito dai loro padri e non hanno obbedito alla mia voce anch'io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro attenzione a questo passaggio metterò alla prova Israele per vedere se custodiranno o no la via del Signore camminando in essa come la custodire dei loro padri. Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le consegnò nelle mani di Giosuè. Allora c'è una storia sacra. Qui c'è una lettura di questi eventi. Numero uno la volubilità della volontà umana che è chiaramente attestata. Avevano fatto le promesse e poi la promesse del marinaio. Il fatto che ogni volta che questi si volgono indietro misericordiosamente il Signore suscita un personaggio che cerca di farli ritornare nella letta via e che magari li libera anche dai suoi nemici. Come vedremo sia Deborah che Gedeone fanno questo. L'atto di attenzione l'essere consegnati nelle mani dei nemici che sembrerebbe una sciacura no? In realtà non è una sciacura ma è un atto di misericordia perché ogni volta che Israele si allontana da Dio cade nelle mani dei nemici. Suppressione di questo cosa deve fare? È costretto a gridare a Dio aiuto Dio manda il giudice e Rosario. Amici guardate questo pattern chiamiamolo così è una chiave di lettura universale valida anche oggi perché attenzione non è che Dio con il Nuovo Testamento con l'Avvento di Gesù ha cambiato Rezeguiti sono cose dell'Antico Testamento ma adesso con il Nuovo non ci stanno più non è vero non è vero il popolo di Dio sussiste ancora e i suoi nemici o potenziali vessatori ci stanno ancora come mai Dio permette che i suoi figli siano vessati da malvagi cadano nelle mani di chi li angaria e li tortura alla causa è che si sono allontanati da Dio il fine è che attraverso questa tortura ritornino a invocare il Signore questo è uno schema consegnato dalla Sacra Scrittura lo vogliamo prendere per buono questa è parola di Dio che questo sia per buono per quanto guarda i giudici non è argomento di discussione io dico che siccome Dio non cambia Dio non cambia anche gente che diceva ma nell'Antico Testamento c'era Dio punitore vendicativo adesso nel Nuovo Testamento c'è Gesù che è misericordioso e buono queste erano le cretinate che diceva un grande eretico Paolo di Samosata uno tra tutti che diceva che nell'Antico Testamento c'è il Dio attivo invece nel Nuovo c'è il Dio buono quindi buttiamo via l'Antico Testamento e teniamo soltanto il Nuovo ma Chiesa non ha mai fatto questo mai mai ha insegnato ha insegnato il principio che il vecchio si comprende col Nuovo il vecchio si legge alla luce del Nuovo ma il vecchio illumina anche il Nuovo questa è la visione cattolica quindi questo pattern ripeto lo rifacciamo il popolo dovrebbe essere fedele a Dio si allontana da Dio e comincia a servire gli idoli gli idoli non sono semplicemente gli idoli gli idoli oggi sono gli idoli del mondo L3S se c'è soldi è successo che succede che a causa di questo cade nelle mani di chi lo angaria di chi lo opprime di chi lo lo sferza perché perché torni a invocare il Signore se il Signore sarà invocato manderà qualcuno a liberarlo perché dopo la liberazione però non si ricominci a fare peggio di prima ma si torni a stare con il Signore perché se si ritorna a fare peggio di prima non arriverà un altro ad angariati e attenzione che è una cosa interessante se il Signore non li scaccia cioè li lascia lì come dire quasi a vigilare appena questi si ricominciano a ringalluzzire invece vuole qualcuno che gli vada a dare una sferzata per riportarli sulla letta via quindi capiamo anche come dietro la storia c'è la mano dell'Altissimo che la governa ovviamente il fine è sempre il nostro bene è la salvezza della nostra anima perché se cominci andiamo a proseguirci ad altri dei a idolatrare e a fare questo e quell'altro ti saluto a Roma si dice ti saluto scuffia addio ne va a repentaglio la nostra salute eterna e il nostro Signore non permette mai che mettiamo a repentaglio la nostra salute eterna senza che lui cerchi di darci una mano perché la salute eterna è il bene dei beni non la sanità temporale salute eterna è il bene dei beni allora dentro questa prospettiva andiamo a vedere qualcosa di quello che succede con vedete i primi tre capitoli sono di prologo poi comincia la storia di giudice abbiamo visto questi primi giudici minori non li affrontiamo andiamo a vedere direttamente il ciclo qualcosa del ciclo di di deboli che comincia nel capitolo quarto se non andano un po' troppo oltre allora guardate il paterna tipico del libro dei giudici al capitolo quarto eud era morto e gli israeliti ripresero a fare so che è male agli occhi del Signore allora bene israel vai isfu lasot hara bene adonai ve chud met ricominciare in iosifu chi legge l'inglese attenzione che iosifu viene dal verbo yasaf da cui deriva anche il nome giuseppe josef che significa letteralmente aggiungere ma anche fare ancora è una cosa ripetuta quindi lo fanno ancora cosa lasot fare hara il male bene davanti agli occhi del Signore pattern continuo e allora che succede qui c'è chi conosce Rebaico il Vav consecutivo si chiama questo lo sto evidenziando con l'evidenziatore quello è il Vav dunque siccome è successo questo la conseguenza è che questo si chiama Vav consecutivo la conseguenza che la conseguenza è che il Signore li consegnò nelle mani li consegnò letteralmente proprio li vendette ecco nelle mani di Iabin re di Canaan che regnava ad Ason e il capo del suo esercito era Sisera che abitava a Karoset Coim come conseguenza di questo altro Vav consecutivo guardatelo quindi fanno il male agli occhi del Signore quindi il Signore li consegna quindi gli israeliti gridarono al Signore Sa'ak significa proprio to cry out in inglese proprio gridare bene Israel questo soggetto gridarono El Adonai questo è il sacro tetragramma vedete sarebbe Yahweh sto evidenziando perché gridarono perché gli Abin aveva novecento carri di ferro da vent'anni opprimi infaturamente gli israeliti attenzione questo non dura una settimana vent'anni in quel tempo era giudice di Israele una donna una profetessa Deborah moglie di Lapidot e la sedeva sotto la palma di Deborah tra Rama e Bet sulle montagne di Efraim gli israeliti salivano da lei per ottenere giustizia vedete anche il nome di giudice uno dei compiti fondamentali appunto i giudici erano anche proprio magistrati nel senso che siccome il potere il governo c'era l'altissimo il potere legislativo c'era l'altissimo il potere esecutivo c'era l'altissimo che governa il potere giudiziario se avete qualche questione questo bisogna dirimerlo con qualcuno che faccia da arbitro e questa era una delle funzioni dei giudici salivano per ottenere giustizia e la mandò a chiamare Barack figlio di Binoam da Chedes di Neftar disse sappi che il signor di Israele ti dà quest'ordine va marcia sul monte Tabor questo è il monte della raffigurazione e prendi con te diecimila figli di Neftar e figli di Zambon io attirerò verso di te al torrente Chison Sisara capo dell'esercito di Yabin con i suoi cari e la sua gente che non mora e lo consegnerò nelle tue mani Barack rispose attenzione un altro passaggio fondamentale se vieni anche tu con me andrò ma se non vieni non andrò rispose bene verrà con te però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini perché il signore consegnerà a Sisara le mani di una donna Deborah si alzò e andò con Barack a Cades Barack convocao Zabolo e Neftar 10.000 uomini e Deborah va con lui ora fu riferito a Sisara che Barack figlio di Abinuam era salito sul monte Tabor allora Sisara era stato nelle sue cari eccetera eccetera Deborah dice a Barack alzati perché questo è il giorno in cui il signore ha messo Sisara nelle tue mani Barack scende dal monte Tabor seguito da 10.000 uomini il signore sconfisse davanti a Barack Sisara con tutti i suoi cari e tutto il suo esercito e Sisara scese dal carro e fuggì a piedi Barack li inseguì tutto l'esercito cadde non ne scappò neppure uno ma Sisara era scappato fuggito a piedi verso la tenda di Jaele moglie di Keber il Kenita perché vi era pace fra gli abini di Asola e la casa di Keber il Kenita Jaele uscì incontra Sisara e gli disse fermati mia signora fermate non temere e gli entrò da lei nella sua tenda e le erano nascose con una copertina le disse dammi da bere un po' d'acqua perché ho sete e gli aprì l'otre del latte gli diedero a bere e poi lo ricoprì e gli disse sta all'ingresso della tenda se viene qualcuno a interrogarti dicendo c'è qui un uomo dire a nessuno Jaele moglie di Sikeber prese un picchetto della tenda impugnò il martello venne piano piano accanto a lui e gli inficcò il picchetto nella tempia fino a farlo penetrare in terra gesto simile a quello che più avanti farà giuditta con oroferne vedete che queste donne ebraiche avevano questa 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 freddezza insomma di prendere i picchetti di trapanare le tempie dei tiranni quindi dopo che vedete Sisera muore per mano di Jaele sopraggiunge Barak gli viene incontro e ti mostrerò l'uomo che cerchi e trova Sisera morta con il picchetto nella tempia ma non per mano di Barak ma per mano di Jaele come aveva promesso Deborah la mano degli israeli si presenta più pesante sugli Abin finché però sono anche gli Abin re di Canaan e poi ci fu il cantico di Deborah molto molto bello questa storia è emblematica del 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 ciclo dei giudici andiamo a vedere velocemente la storia di Gedeone pronti a sentire sempre la stessa la stessa vita strocca capitolo 6 gli israeliti fecero so che male agli occhi del Signore e stavolta il Signore gli consegnero le mani di Madian per sette anni poi chiaramente non rivediamo sempre lo stesso Vav consecutivo no? va yittem adonai be'yad eccolo qua il Vav la mano di Madian si fece pesante contro Israele Madianiti eccetera eccetera infaticamente Israele è ridotto in grande miseria a causa di Madian eccolo qua e gli israeliti eccolo qua la stessa frase di prima va yitzaku bene Israel e l'adonai gli israeliti chiedono al Signore quando gli israeliti ebbero gridati al Signore ci hanno messo sette anni per gridare al Signore che è la settimana eh a causa di Madian il Signore mandò loro un profeta un Nabi che disse dice il Signore Dio di Israele io vi ho fatto salire dall'Egitto vi ho fatto uscire dalla condizione servile vi ho strappato dalla mano degli egiziani dalla mano di cui ti opprimevano li ho scacciati davanti a voi vi ho dato la loro terra e vi ho detto io sono il Signore vostro Dio non venerate gli dèi degli amorrei nella terra di quale abitare a voi non avete ascoltato la mia voce sempre questo è il problema ve lo quindi dice uè capito perché ti sta succedendo questo perché tu non hai ascoltato la mia voce hai fatto il contrario di quello che ti ho detto ecco perché amici miei se mi posso permettere questo sì sono come sapete lezioni lezioni insomma incontri catechesi bibliche meglio ma hanno sempre uno sfondo esistenziale allora se volete se mi posso permettere un consiglio io lo faccio con me stesso quando ci capita un guaio non dobbiamo dire come pagani u che iella magari pagani dicono anche un altro termine che non si può dire che non sta bene nella bocca di un sacerdote oppure u che disgrazia oppure peggio ancora ah se Dio fosse buono non mi manderebbe questa disgrazia ah ma io che peccati ho fatto che cosa ho fatto a me cosa ho fatto di male no la prima cosa che devi chiederti è proprio questo qua che avrò fatto la prima cosa non è detto perché nel nuovo testamento e veramente questo era un pochino presente anche nel libro di Giobbe nell'antico c'è anche una altra diciamo così lettura di mali che ci possano capitare anzi altre due un male può essere una prova quindi un modo con cui il Signore testa la nostra fede oppure questo è proprio dal Nuovo Testamento può darsi che il nostro Signore ti mandi un male non per correggerti di qualche tuo di qualche tua pecca ma per la conversione di qualcun altro quindi è la sorte di quelli che seguono le orme di Gesù che trova diciamo in quella particolare figura nota nel mondo della mistica dell'anima vittima il clou quella non soffre le disgrazie perché c'ha qualche cosa di cui correggersi gli capitano addosso le tegole perché devono salvare vanno per la conversione delle altre persone ma ordinariamente non è così cioè capite cioè le cose che accadono hanno un senso tutte e se noi impariamo umilmente fatelo a metterci davanti al Signore sapete quante volte mi è capitato cioè perché anche se una persona non lo vuole ammettere la coscienza nel cuore glielo dice e a me qualcuno me l'ha detto me l'ha detto e il mio padre lo so benissimo perché mi sono successe queste cose è successo perché io me l'estra merito per quello che ho fatto e io sono stato zitto perché non è mica detto no che stai a dire io non dico proprio niente perché parte il fatto che non sono in grado assolutamente di giudicare come dire ciò che accade ad un'altra persona che non sono manco buona giudica quello che accade a me ma non gli dico niente perché non è esclusa che sia una cosa del genere non è affatto esclusa non la si può esclusere a priori anzi è ampiamente attestata è normalmente quello che accade l'angelo del signore va a chiamare Gedeone e gli dice il signore è con te uomo forte e valoroso e guardate Gedeone gli rispose perdona mio signore se il signore è con noi perché ci è capitato tutto questo ma guarda guarda dove sono tutti quanti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il signore non ci ha fatto salire dall'Egitto ma ora il signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato le mani di Madian guardate come l'eletto del signore come dire in qualche modo però incarna l'umana debolezza al momento della della chiamata che dice ma il signore dice l'uomo porta il signore è con te magari con me guarda come siamo ridotti e sto grande Dio il signore che ha fatto uscire dall'Egitto con i suoi grandi prodigi aperto nel mar rosso com'è che adesso non fa più niente ha ci ha abbandonato il signore ora ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian Beatta Netashan Adonai allora l'angelo gli dice senti sta buono vai con questa tua forza e salva Israele dalle mani di Madian ti mando forse io a questo punto Gedeone chiede dei segni d'accordo anzitutto ci sta prima il pattern di ogni racconto vocazionale dice l'obiezione della propria debolezza perdona mio signore come salverò Israele l'abbiamo già visti Mosè l'abbiamo già visti seguito tutte le catechesi bibliche ecco la mia famiglia è la più povera di Manasse io sono il più piccolo nella casa di mio padre sentiremo Geremia dice ma signore io non so parlare sono giovane no il signore gli disse io farò con te la grande frase e chie in mach e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero uno solo la richiesta del segno famoso segno che dice guarda dice prendi la carne posa prima il segno che l'angelo brucia manda il fuoco e brucia le cose dette da preparate da Gedeone poi gli chiede anche un altro segno andiamo avanti però perché la cosa fondamentale è quando Gedeone va in guerra per liberare Madian vediamo che cosa succede questo è l'altro segno in velo sull'aia ecco allora il signore dice a Simeone stiamo a capitolo 7 a Gedeone scusate capitolo 7 versetto 2 la gente che è con te è troppo numerosa perché sono partiti con un buon numero di persone perché io consegni Madian nelle sue mani Israele potrebbe vantarsi di dire la mia mano mi ha salvato vedete attenzione nel caso di Barak Dio ha voluto che il capo dell'esercito nemico fosse sconfitto da Gedeone in modo tale che nessuno poteva dire sono stato io quindi è importantissimo quando Dio scende in campo e scende in azione fa sempre in modo che il beneficiario dei suoi benefici scusate la ripetizione insomma non è la costruzione molto felice il destinatario dei suoi benefici meglio non possa dire ah questa è opera mia deve vedersi che opera sua Paolo avrebbe detto Dio che sceglie ciò che nel mondo è debole Dio che sceglie ciò che nel mondo è stolto per fare grandi cose Dio sceglie le persone sempre più improbabili perché vuole che si veda che è sua azione che è sua gloria non solo perché questo è vero ma perché anche le persone possano comprendersi possa comprendere l'azione salvifica di Dio nei loro confronti perché se sono stati gli uomini Dio non c'entra niente allora che cosa si diventa nostro signore dice guarda annuncia la gente chiunque ha paura e trema torna indietro e fugga dal monte di Gana tornarono indietro 22 mila uomini e quella gente ne rimase 10 mila quindi sappiamo probabilmente sarà stato detto in qualche versetto prima che abbiamo omesso che erano in 32 mila ne rimangono 10 mila troppi la gente ancora troppo numerosi falli scendere all'acqua e te li metterò io alla prova quello del quale ti dirò costruito non te verrà e quello del quale ti dirò costruito non te non verrà li fa scendere all'acqua e il signore disse quanti lambiranno l'acqua con la lingua come lo lambisce il cane capite no quindi si abbassano e bevono con la lingua come fanno i cagnolini oppure i cattini quando bevono invece quanti per bere si metteranno in ginocchio quindi si metteranno in ginocchio quindi prenderanno l'acqua a conchetta con le mani li metterai dall'altra parte secondo voi la maggioranza della gente che fa beve l'acqua con una persona civile beve l'acqua con le mani a conchetta sono 10.000 in quanti lambiscono l'acqua con la lingua 300 9.700 bevono l'acqua da persone civili e che cosa dice secondo il nostro signore allora signore dice a Gedeone con questi 300 vai a combattere contro i madri il resto tutti a casa quindi da 32.000 siamo scesi a 300 siamo circa all'uno all'uno per 1000 uno per 1000 e tutti a casa in la stessa notte il signore disse Gesù vai sul campo che l'ho consegnato nelle tue mani e che cosa succede? avanti guardate me e fate come farò io quando sarà giunto l'imiti dell'accampamento come farò io farete voi quando io con quanti suono con me suonerò il corno anche voi sono reticorni intorno a tutto l'accampamento e gridete per il signore e per Gedeone Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giusto sull'estremità dell'accampamento e anche le altre schiere suonarono i corni spezzarono le brocche eccetera eccetera la spada del signore per Gedeone che cosa succede? ognuno rimase al suo posto attorno all'accampamento e per 22 mentre quelli suonavano i 300 corni che cosa succede? il signore fece volgere la spada di suono contro il suo compagno per tutto l'accampamento si si sono ammazzati da solo ok l'esercito fuggì fino a Bezzitta verso Sera eccetera eccetera ma anche qui vedete tante che in parte li fa ammazzare gli uni con gli altri e in parte sconfiggia l'esercito nemico quindi bellissima storia meravigliosa storia poi Gedeone addirittura vedete gli dicono che lo vogliono come governatore dice no non vi governo io vi governa il signore finita la missione io mi faccio da parte e ci abbiamo ultimo ci abbiamo un pochino di tempo sì la storia di Sansone andiamo avanti un pochino con i capitoli allora pronti la storia da vita strocca siamo a capitolo 13 gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del signore e il signore che consegnò le mani dei vilitei stavolta la posta è più sarata per 40 anni c'era allora un uomo di sorella della tribù dei damniti chiamato Manoach sua moglie era stelle e non aveva avuto figli l'ordine del signore apparve a questa donna e le disse è della macina nascita miracolosa di Sansone ecco tu sei sterile e non hai avuto figli ma concepirei e portarei un figlio ora guardati dal bere vino bevande nebbiante e non mangiare nulla di impuro perché ecco tu concepirei e portarei un figlio sulla cui testa non passerà da soio perché il fanciullo sarà un azieo di Dio fin dal seno materno egli comincerà a salvare Israele dalle mani dalle mani dei filistei e così sarà quindi la storia di Sansone nasce e quindi il segreto della sua forza è il non passare il rasoio sulla sua testa tanto è vero che poi Sansone nasce cresce sto andando avanti chiuso tanto alla storia dell'anno del concepimento quindi poi parte cresce e comincia Sansone a fare le sue scorribande in mezzo ai filistei solo che comincia subito Sansone a aprire la porta di quella che sarebbe stata poi la sua figlia perché comincia a fare un pochino di scorribande solo che vede una donna tra le figlie dei filistei e dice al padre ho visto una figlia dei filistei prendetela come moglie suo padre e sua madre gli dissero ma scusa non c'è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo che tu vada a prenderti una moglie tra i filistei non circoncisi ma Sansone rispose al padre prendimi quella perché mi piace solo che questo questo primo è come dire questa prima di bozza verso la donna dei filistei dice non sapevano suo padre e sua madre che questo veniva dal signore il quale cercava un motivo di scontro con i filistei perché Sansone scende con il padre e la madre da Tinna quando giungono le vigne di Tinna un leoncello gli viene incontro lo spirito del signore ruppe su di lui senza niente in mano squarcia il leone come si squarcia un capretto e se dunque parlò la donna e questa gli piace dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone non c'era più eccetera eccetera le mangia il miere eccetera eccetera comunque attraverso questa cosa scoppia la guerra contro i filistei ecco ci stanno tante le scorribande insomma di 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 Sansone è un pochino se mi si perdona un pochino l'accostamento un pochino ardito è un po' l'Achille del popolo di Israele ricordiamo insomma l'Achille del popolo che cosa combinava l'Achille in Acai lo canta mi dico del periodo dell'Achille dell'Achille dell'Apunesta che finita addusse l'utti agli Achei però a un certo punto succede andiamo verso già la fine la storia di Sansone e Davila quella che purtroppo diventa tristemente famosa in seguito si innamorò di una donna della valle di Sorach che si chiamava Dalida allora i principi dei filistei vanno a dare gli disse seducilo e vedi la sua forza così grande così potremmo che volete suddituire per legarlo e domarlo gli daremo ciascuno 1100 sicli d'argento vedete no 1100 sicli d'argento per andare a corrompere un pochino di più dei 30 cecchile d'argento per tradire il nostro Signore Gesù Cristo questa era una notazione fuori programma Dalila dunque disse a Sansone spiegami da dove viene la tua forza così grande in che modo ti si potrebbe legare per domani Sansone le rispose se mi si legasse con sette corde d'arco fresche non ancora secchi diventerai deboli e sarei un uomo qualunque allora i capi di Filistello portarono sette corde d'arco fresche non ancora secchi con le quali loro la guarda la tesi in una camera ed ella gli chiedono Sansone e Filistei ti sono addosso ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa quando è dentro il fuoco e il segreto della sua forza non fu conosciuto Dali la saldrabbi ti sei burlato di me mi hai detto menzogne spiegami come ti si potrebbe regale io racconto un'altra bugia se mi legasse con funi nuovi non ancora adoperati eccetera eccetera Dali da prendere i funi i Filistei arrivano Sansone rompe i funi e li sgomina tutti quanti ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne qui continua altra bugia se te stessi le sette tre c'è la mia destra in ordina non è vero quindi si va avanti allora ella dice ma come puoi dire che ti amo dentro il tuo cuore non è come già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato la tua forza ora poiché era un opportuno ogni giorno e lo tormentava e gli ne fu annoiato da morire e un bel giorno dice la verità non è mai passato la soglia sulla mia resta perché sono un azireo di dio d'azione di mia madre se fossi ratato la mia forza si ritirerebbe da me e sarei diventerete e sarei un uomo qualunque e stavolta è la verità tutti quanti sappiamo arrivano i filistei catturano cioè questo lo fa addormentare sulle sulle sue ginocchia farà dare il capo salzoni e i filistei sono addosso e gli svegliano e uscirà con un'altra volta ma stavolta il signore si era ritirato da lui versetto 16 versetto 20 lo prendono i filistei e capano gli occhi lo fanno scendere alla aggazza lo legano con doppia catena di bronze giro la macina intanto la capigliatura piano piano comincia a rivescere i principi dei filistei si radunano per offrire un gran sacrificio a Dagon loro Dio per far festa e dicevano il nostro Dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico quando la gente lo vede cominciarono a vedere il nostro Dio a dire il nostro Dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico che devastava la terra e il mare eccetera eccetera e lo chiamano e lo mettono a fare il giurlare di corte quindi far giochi alla sua presenza però lo fecero stare fra le colonne Sansone dice al servo era cieco che avevano raccomandato gli occhi dice lasciami toccare le colonne sulle quali posso al Tempio perché posso appoggiarmi adesso il Tempio era pieno di uomini e di donne vivano tutti i principi dei filisteni sul terrazzo circa 2.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre lui faceva i giochi allora allora Sansone disse al Signore lo invoca dicendo Signore Dio ricordali di me dammi forza ancora per questa volta soltanto Dio e in un colpo solo mi vendicherò dei filistevi nei miei due occhi Sansone parpa le colonna e poi c'è la famosa frase che io muoia insieme con i filistevi che erano ricresciuti si curvò con tutta la forza e il Tempio rovino addosso ai principi e tutta la gente che aveva dentro furono più morti che egli causò con la sua morte Guantina era uccisi in vita poi i suoi fratelli lo presero e lo portarono via risalirono e lo seppellirono fine della storia di Sansone fine anche della storia dei giudici no? amici fine anche quasi di questa catechesi biblica che siamo arrivati in dirittura ad arrivare il pattern è chiaro anche anche in questo caso nel caso di Sansone compare un tema che sarebbe è un tema antico perché è un tema che era già comparso nel peccato originale purtroppo la donna quando diventa seduttrice è un tema che sarebbe ricomparso tragicamente anche un altro grande di Israele che è Salomone come vediamo a suo tempo Salomone la cui sapienza la regina del sud la venne a venerare che ha dato prova nella vita di virtù straordinari di giudizia straordinaria quando quando Dio non vorrei adesso parlarne prima del tempo gli dice guarda puoi chiedermi qualunque cosa e gli fa una grande richiesta dice addirittura la salienza non gli chiede i soldi non gli chiede le donne eccetera eccetera poi purtroppo al termine della sua vita si va a corrompere di brutto presso alle donne idolatre e succede il finimondo quindi c'è anche questo questo tema l'importante è che rimaniamo con la lezione di questo libro abbiamo sentito a ogni grande giudice importante c'è sempre lo stesso pattern Israele ricomincia a fare ciò che è male lo mettono in mani di Madian dei Finistei o di altri gridano sorge il giudice misericordia liberazione che Dio fa attenzione a dimostrare come sia opera sua e non degli uomini perché per gratitudine finalmente si mettono a servirla un pochino di vita buona e poi ricominciano quindi capite anche come molto del cuore dell'uomo è veramente semplificato attraverso questa vicenda e queste vicende del popolo dell'antica alleanza bene penso che però ci possiamo fermare la prossima volta cominceremo i libri di Samuele il ciclo di Samuele la storia di Samuele che ci porterà all'avvento del regno in Israele con Saulo appunto Davide e Salomo alla prossima e che Dio vi berica e la Santa Vergine sempre vi protegga di Samuele di Samuele Grazie a tutti.